Benvenuti, benvenuti qui sul canale di Grana, siamo trovando oggi un nuovo episodio di Notte di Giovanni con solo 3 punti Giornata storica e noi vinceremo anche contro Messi, non me ne frega un cazzo Oggi è una giornata storica, dobbiamo vincere la divisione e la vinceremo Oggi si prendono i 3 punti, o almeno un punto per cui ti non ha la speranza di fare Perché poi ci mancherebbero due partite e con due pareggi di fila comunque andremo nella divisione 3 Dai, dai, non accadrà mai nella vita, e in realtà è fallo, però vabbè Dai Boom Oh, ma sportellate Vona! Oh, oddio! Oddio, l'ho fatto della vita! Mamma mia! È davvero! Porca troia! Ma chi è? Ma quello? No, non è quello Chi è? Ma quello deve essere levato al cazzo Ma lo vuoi? C'è un po' da caldo, boh Sergi, tu! Isergi io! Ammazzamo skriders Alltaglio! Guarda, 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 un pallo, fallo, 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 fallo,arri, non capisco, sei cos'è sti parting Vale! Grande copertura difensiva No, no no no, porca p***na! Pia, allunga sta cazzo di gamba, un taci tua Vai, fallo, vai e fallo Sì, che trivore Mamma mia, Sergio Aguero Mamma mia La segna sia con lui Sono Sergio Cinque gol in due partite No, sì Sì, no, un altro ha fatto l'ultimo, il quarto che ha fatto Cinque gol in due partite Alla sei, so Eh no, due adesso e tre prima E chi ha fatto il quadrato? Mamma mia, mamma mia, perché non tira il volo? Capito, ma perché non tira il volo? Ok, è fatto però, eh Di Maria Grazie Ma vaffanculo, l'arza un po' di più Sto appiccicato, quello di farlo in tutto lato Eh, se l'arza un po' di più No, stasci Se l'arza un po' di più Vabbè, dai, due a uno, primo tempo Ehi, rigori Dai, vado, affiscato, affiscato, affiscato Fondizione Questa è buona Che sta? nuova guarda che culo non è stato 4 facciamo poco poco 15 e lui mamma mia sopana così mamma mia la casa la coppia di squadra tuo maestro è così che si fa la colonna voglia ancora ovo parco 2 ma chi è questo che cazzo ne so bozzarevo che è un lavoro un'attività spingi avvicinando a noi ma che mi chiamo un pazzo dvd se cimu vittorio che c'è la parola di euro giudizio di euro e caratterizzato votato le gambe per la valla la giustissima come cosa non lo potevo stava avanti il suo volo con la porta la sofferenza sta partita e ci sono buono 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 un tantesimo regalini nella terza divisione trabani, trabani 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 non dà aspetta guarda ma che cazzo voglio segnare è fatta siamo in terza divisione non ci posso credere dopo anni ce l'abbiamo fatta mamma mia non c'è terza divisione incredibile si si punta il titolo questa volta da che nemmo preso un cazzo che che drapani ragazzi noi ci becchiamo al prossimo video sapendo che comunque come vada vada tra massimo due partite e la terza divisione e dagli cazzo ciao ciao